Ben ritrovati con le previsioni a cura di MeteoOne. La pausa anticiclonica ci garantirà fino a sabato condizioni di bel tempo e clima mite, con temperature in rialzo ovunque, ma vediamo nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per venerdì 26 ottobre. Al mattino cieli sereni su entrambe le regioni, nel pomeriggio deboli aumento della nuvolosità lungo la catena appenninica, con deboli fenomeni, poco nuvoloso sul Foggiano, sereno invece altrove. In serata nuvoloso sulla Basilicata occidentale con deboli piovaschi, nuvi basse e occasionali nebbie si formeranno sui settori ionici e basso Salento. Per quanto riguarda le temperature, massime in aumento di 2-4 gradi, soprattutto sulle pianure Puglisi e lungo le coste adriatiche, con punte fino a 24-25 gradi. Scirocco in rinforzo sul Salento e Gargano, venti occidentali sul Potentino e su Bappenino. E per quanto riguarda i mari, mostri il canale d'Otranto e Piorino, mutondosi in aumento su Adriatico e Ionio. Per la foto del giorno oggi ringraziamo Cristian Giannibelli per aver fotografato la suggestiva luna del Cacciatore, che in questo periodo sorge apparendo più grande e luminosa del solito. Inviate la vostra foto del giorno alle nostre pagine Facebook e al numero Whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.